Sei sicuro di conoscere le regole di entrate ed uscita dal porto? Dai, scopriamole insieme! Ciao, sono il capitano Giuseppe Caracchiolo e come molti di voi sanno, la regola è che in porto si avanza lentamente, senza sollevare onde fastidiose per le barche ormeggiate. Il limite di velocità è stabilito dall'autorità marittima competente per territorio, di solito due o tre nodi. All'interno di porti e canali si tiene la dritta. È molto importante osservare i movimenti e le intenzioni degli altri, sincerandosi che abbiano intuito le nostre. Se per esempio una barca sta per intracciare il nostro percorso, bisogna avere la lucidità di rallentare immediatamente e fermarsi a debita distanza di sicurezza. Se serve, durante la manovra si può accendere il segnalatore acustico per attirare l'attenzione. Prudenza, comprensione e rispetto reciproco non sono mai eccessivi in porto e tengono alla larga le brutte sorpese. Ad eccezione del porto di Brindisi, regolato da apposita ordinanza, le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata. Sia all'interno che in prossimità del porto, quindi, occorre non intralciare in alcun modo le manovre e il transito delle grandi navi, dalle quali, anzi, è obbligatorio tenere una debita distanza. Uscendo dal porto, è possibile ritirare i parabordi e riporli in un gamone o sotto coperta, così che non possano essere d'ostacolo. A questo punto, e solo a questo punto, è tutto pronto per la navigazione e per godersi la propria uscita in mare. E tu, le conoscevi queste regole? Scrivercelo nei commenti e non dimenticare di mettere like, seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.